... Insediamento al pincio per il neosindaco Tidei che annuncia mancano 6 milioni nel bilancio. Al lavoro per la nuova giunta la procura indaga sugli episodi del dopo voto. Partita dalla civita vecchia la nave della legalità diretta a Palermo. A bordo tanti ragazzi pronti a dire no alle mafie a 20 anni dalle stragi di Capaci via da meglio. Pallavolo la Sartorelli serramenti bis di successo tenuta nella gara d'andata col Green Volley. A pro dalla finale playoff partita secca che verrà la serie B2. Buongiorno e bentrovati. Nuova edizione del telegiornale di Provincia di Vusi. Si è insediato ufficialmente ieri mattina il neosindaco di Civite Vecchia Pietro Tidei. Subito per lui un bilancio di quanto lasciato in eredità dalla passata amministrazione. E i primi passi da muovere al pincio. A giugno l'inaugurazione della Marina. Martedì il primo incontro con l'Enel. Ma sentiamolo in questa intervista. All'appunto primo giorno da sindaco per Pietro Tidei. Quali saranno le prime cose da fare? La prima cosa da fare è fare il bilancio. Il bilancio stamattina ho convocato i dirigenti. Mancano 6 milioni di euro per fare il bilancio. Fortuna che c'era qualcuno che non voleva far pagare neanche il limo. Quindi nonostante il limo mancano 6 milioni. Vedremo dove trovarli e come trovarli. Fra l'altro la cosa ancora peggiore è che tutti i soldi per la spesa corrente sono stati spessi. Per cui da giugno a dicembre non c'è più una lira. Neanche per pagare i contratti. Il che significa veramente un dramma per questa amministrazione. Quando noi lo dicevamo era vero. E quindi adesso bisognerà rimboccarci le maniche e trovare questi 6 milioni che mancano al conto. Parliamo di progetti? I progetti sono tanti. Sono innumerevoli. Intanto uno dei primi incontri che avrò con il ministro Clini per fare dire definitivamente no la discarica Santa Rocia. Secondo quello che noi chiederemo la istituzione del Monumento Naturale della Frasca faremo e chiederemo il registro dei tumori. Cercheremo in modo particolare di rafforzare la corta differenziata da subito. E in modo particolare quello che credo che adesso dovremo cominciare a fare i lavori che chiedono posti di lavoro. Con tettorali dal cementi daremo 60 dei tempi all'impresa delle terme per iniziare i lavori visto che abbiamo appreso dalla stampa che era tutto pronto e quindi se non è pronto lo vedremo. 60 giorni di tempo per iniziare i lavori. La stessa cosa faremo col fantomatico Vetus, Civile Vecchia Vetus come si chiama. Dice che era tutto pronto. Vediamo la Pulverini se da questo terreno. Noi siamo pronti per partire immediatamente. Vedremo se sono bufale o cose concrete. Ecco, vediamo qui parte della sua squadra, appunto i giovani consiglieri eletti. Intanto si lavora anche per la Giunta. Sì, lavoreremo adesso, faremo una prima riunione ricognitiva con tutti i partiti perché oggi ho preso contatto con l'amministrazione e quindi è stata la prima riunione. Ho convocato già per venerdì i dirigenti, tutti i dirigenti, per fare un punto sul bilancio e sulla riorganizzazione degli uffici. Dopodiché vedremo che cosa possiamo fare. Ma intanto la Giunta nel giro di pochi giorni la faremo. Il primo cittadino ha scritto ieri al Ministero dell'Economia e delle Finanze per chiedere, ha spiegato una verifica urgente, amministrativa e contabile relativa agli anni 2007 e 2012, all'arco del tempo che va dal 2007 al 2012, quindi il mandato di Gianni Moscherini, prima di iniziare operativamente la nuova gestione del pincio. Nel giro di due settimane la Procura ha aperto ben tre indagini relative alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale, oltre ai presunti brogli, infatti all'attenzione della magistratura è anche l'incendio della Mercedes a Viale della Vittoria, il trasferimento serale di carte e faldoni degli uffici dell'ex sindaco Moscherini. Il servizio. Sono tre le inchieste aperte dalla Procura della Repubblica per fare luce sugli episodi di cronaca legati alle ultime amministrative. Oltre alle indagini avviate per presunti brogli e per chiarire quanto accaduto nella notte tra il 7 e l'8 maggio scorso al centro raccolta dati e raccolta plighi del pincio, infatti, dai vietarmi di Traiano sono partite altre due inchieste. La prima riguarda il principio di incendio alla Mercedes del neosindaco Pietro Tidei. L'idea della Procura, infatti, è quella di avviare una perizia sull'auto oggi sotto sequestro. La relazione dei vigili del fuoco parlerebbe di un cortocircuito confermato dal fumo visto uscire dalla parte anteriore della vettura, ma gli inquirenti vogliono vederci chiaro perché appare comunque strana la coincidenza. La seconda inchiesta aperta, invece, riguarda quanto accaduto nella serata al pincio a poche ore dalla conclusione dello spoglio, quando alcuni articolo 90 della passata amministrazione hanno iniziato a portare via fogli e documenti dagli uffici caricandoli su alcuni mezzi di città pulita per mandarli al macero. Notato l'episodio, gli esponenti del centro-sinistra hanno chiesto all'intervento delle forze dell'ordine e il pericolo per loro la possibile sottrazione di documenti importanti. Da lì il sequestro dei mezzi con carabinieri e polizia che hanno fatto scaricare i documenti nel piazzale, controllandoli uno ad uno. Le carte sono ancora in fase di verifica, con i carabinieri impegnati a seguire le operazioni. In questo caso ancora non è stata formulata alcuna ipotesi di reato né tantomeno sono state iscritte persone nel registro degli indagati. Entrambe le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore Paolo Calabria. E sull'episodio dei faldoni gettati dagli uffici del comune e caricati dal personale di città pulita, su alcuni furgoncini si registra un'interrogazione dei deputati del PD, Gasbarra Meta e Tuadì al Ministero dell'Interno, nella persona di Anna Maria Cancellieri. Le chiediamo, si legge, se è confermato il gravissimo episodio o di conoscere quali provvedimenti intenda assumere per censurare e perseguire un comportamento che non ha precedenti. Già poche ore dopo la riconferma, il sindaco Crescenzo Pagliotta, stiamo parlando di Ladispoli, è tornato al lavoro per affrontare le delicate questioni che a breve scadenza attendono la città. Su tutti gli interventi per evitare emergenze nel settore dell'igiene urbana, viste le pronunciate decisioni della Regione Lazio riguardanti sia Cupinoro che Castel Campanile, un altro tema sul quale Pagliotta inizierà subito a lavorare è la preparazione per l'ormai imminente stagione turistica. E il riconfermato primo cittadino ha voluto ringraziare i 9.080 elettori che gli hanno permesso di vincere il ballottaggio con 60,41% dei voti. Grazie di cuore ha detto Pagliotta a tutti i cittadini che al di là di ogni idea politica hanno votato e premiato la nostra linea coerente di non accettare compromessi per cercare la vittoria in ogni costo e il Consiglio Comunale. Ci sarà una maggioranza giovane rinnovata quasi per il 60% in grado di governare, spiega, sia nel segno della continuità che del rinnovamento. Per il neo eletto sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci con il 61,35% è giunto il momento di rimboccarsi le maniche e di mantenere le promesse fatte a Cerveteri. A cominciare dalla composizione della Giunta nei giorni precedenti alla chiusura della campagna elettorale Pascucci aveva annunciato avevamo promesso che avremmo presentato prima del voto la Giunta che governerà con me nei prossimi cinque anni ed eccola qui Urbanistica edilizia ad Alberto Ferrante Attività produttive e turismo Lorenzo Croci Lavori pubblici e ambiente Andrea Mundula Valcanneto Pubblica istruzione e servizi sociali Giuseppe Zito Partendo anche quest'anno dalla Cività Vecchia alla nave della legalità carica di studenti pronti a dire no alle mafia vent'anni dalle stragi di Capaci Via D'Amelio i ragazzi sono salpati alla volta di Palermo salutare l'importo anche il ministro della pubblica istruzione Francesco Profumo lo sentiamo in questa intervista vent'anni dalla strage di Capaci ancora si parla di mafia soprattutto in questi ultimi giorni con l'attentato di Brindisi che ha visto morire una giovane studentessa di 16 anni soprattutto in un istituto dedicato proprio ad uno dei protagonisti di questa manifestazione di oggi beh io credo che ricordare Falcone Borsellino Francesca Morvillo e la scorta ha soprattutto il significato ha un significato particolare per molti di questi ragazzi che sono nati dopo il 1992 per cui loro non hanno un ricordo diretto l'evento di Brindisi è un evento tragico ma non ne sappiamo ancora quali sono state le motivazioni per cui io credo che bisogna lasciare lavorare con serenità gli inquirenti senza pressione bisogna lavorare sui dati e non sulle sensazioni quindi credo che dobbiamo vivere queste giornate in questa forma certamente c'è attenzione ma la scuola è un posto sicuro è un posto è la parte migliore del paese lo ha dimostrato anche in queste giornate così difficili gli inquirenti stanno lavorando con molta serietà le indagini sono complesse attendiamo i risultati delle indagini Concluso l'iter per la realizzazione del multisala ad annunciarlo la società studio urbano esponente dei diritti edificatori sulle aree di via Magenta Ancolovia Achille Montanucci il progetto spiegato dalla società prevede la realizzazione di due piani interrati da adibire a parcheggio un piano terra per ristorante spiegano scuola di ballo drugstore sorgere invece al primo piano una multisala composta da 5 sale che ospiteranno fino a 600 spettatori ancora una scuola di cinematografia e student ostello bar paninoteca nel progetto è previsto anche un secondo piano da adibirsi a fitness l'edificio spiega la società studio urbano SRL sarà conforme alla normativa per il risparmio energetico con fotovoltaico e pareti ad alto isolamento non è più sindaco di Civitavecchia ma l'uscente Gianni Moscherini ancora sotto i riflettori questa volta a chiamarlo in causa e con lui anche altri dirigenti di Palazzo del Pincio è il Consorzio Olivieri oggetto il blocco dei progetti inseriti all'interno del patto territoriale degli Etruschi che ha visto il Consorzio presentare una serie di denunce e querele alle procure di Roma Civitavecchia alla Direzione Nazionale Antimafia e ai comandi generali di Carabinieri alla Questura e alla Guardia di Finanza tra pochi giorni se non cambieranno le cose alcuni reparti saranno accorpati per la mancanza di medici tecnici radiologi e infermieri la Regione Lazio deve intervenire il sindaco di Tarquinie Mauro Mazzola lancia un appello al presidente Renata Polverini perché risolve il problema e visiti l'ospedale cittadino la situazione è grave dice Mazzola tra poche settimane inizierà la stagione estiva la popolazione crescerà in modo notevole per l'afflusso massiccio di villeggianti sul litorale aumenterà il traffico giornaliero sulla statale Aurelia quindi indispensabile conclude Mazzola sopperire alle carenze di organico per evitare l'accorpamento di alcuni reparti garantendo un'adeguata assistenza sanitaria e interventi di soccorso tempestivi ed efficaci la nostra pagina sportiva la Sartorelli Serramenti vola in finale dei playoff maschili di Serie C al palazzetto dello sport i civili da Vecchiesi passano 3-1 sul Green Volley già battuto 3-0 nella gara d'andata sabato da Anguillara la finale secca per la promozione in B2 contro la vincente Velletri Gensano andiamo ad ascoltare il tecnico Alessio Pignatelli intervistato per noi da Riccardo Valentini siamo qui con Alessio Pignatelli allenatore della Sartorelli Serramenti all'andata vittoria per 3-0 oggi bastava vincere un set l'avete fatto subito sì sì siamo stati determinati molto bravi e concentrati a scendere in campo nel primo set quindi buon approccio alla partita è andato tutto bene nel primo set in campo la formazione titolare con Cristini nel ruolo di opposto poi nel secondo una specie di allenamento e dopo via la festa con dentro tutti gli effettivi della formazione quali sono state le indicazioni della serata? L'indicazione più bella della serata è vedere due under 16 che comunque in un playoff di serie C riescono a mantenere tranquillamente il livello di gioco questo è un piacere per noi come prima squadra per tutto il settore giovanile e complimenti a loro Ora in finale la vincente di Velletri Genzano si giocherà in campo neutro gara secca quindi tutto può succedere eh sì tutto può succedere l'importante era arrivare a questa partita diciamo sono nove mesi che aspettiamo di giocare questa partita quindi sicuramente arriveremo pronti e carichi per questo evento particolare E a pochi giorni di distanza dalla faraonica fino al for femminile di pallonuoto in casa SNC si cominciano a profilare le primissime proiezioni di mercato ad oggi i vertici rosso-celesti hanno fatto intendere che la prossima stagione non vedremo più il talento capitolino Claudio Innocenzi al Pala Enel vincolato all'SNC per tre anni ma con due clausole recessorie la permanenza nella massima serie dei ragazzi di Pagliarini è una postilla sulla promozione della società romana in A1 che metteva in contrapposizione entrambe le compagini un altro pezzo da 90 dato in partenza il centro vasca Draskovic giocatore fondamentale per le manovre rosso-celesti purtroppo però soltanto nella prima fase di campionato i vertici rosso-celesti ha spiegato il presidente d'Ottavio hanno valutato il suo rendimento complessivo e hanno tirato le somme e ancora pioggia di medaglie per i portacolori del circolo canottieri Cirevecchi i ragazzi del sodalizio di Mister Tranquilli e del suo secondo Berretti hanno partecipato alla seconda regata regionale che si è tenuta lo scorso weekend a Sabaudi e hanno fatto incetta di podi si è svolta domenica scorsa sul nuovo tracciato di vetralla la sesta prova del campionato regionale motocross ICS dove il team special bike di Patrizio Ferri ha nuovamente schierato tutti i piloti della squadra grande soddisfazione arrivata dal giovane minicrossista Mattia Vannacci che grazie a un primo o un secondo posto di giornata ha vinto la sua gara diventando così campione regionale di categoria era la nostra ultima notizia grazie a tutti per averci seguito ci vediamo questa sera alle 19.45 sempre con l'informazione sempre su Provincia TV canale 656 grazie a tutti arrivederci grazie a tutti grazie a tutti